1 a 10, direi 7. Questo in sintesi il voto che danno gli italiani al grado di soddisfazione per la vita che conducono. I dati resi noti dall'Istat mostrano come nel nostro paese siano diffuse ottime sensazioni per quanto riguarda la famiglia. Si ritengono soddisfatti delle loro relazioni familiari il 90,3% dei nostri connazionali. Molto alti valori anche per l'amicizia e la salute. Su quest'ultimo aspetto va però notato come i più alti siano i dati al nord e al centro, mentre il sud si situa al di sotto della media nazionale. Forse è davvero l'uscita dal tunnel della crisi alle viste se cresce il numero dei nuclei familiari che ritengono che la loro situazione economica sia invariata o in miglioramento. Siamo oggi al 52%, ben 11 punti in più sullo scorso anno. E cresce anche il senso di realizzazione sul lavoro, che riguarda circa 3 italiani su 4. Soprattutto sono le donne le più soddisfatte del proprio impiego. Aumenta pure la fiducia negli altri. Il 23,2% degli intervistati ritiene che gran parte della gente è degna di fiducia. Circo 2 punti e mezzo in più sul 2013. E sale la probabilità percepita di vedersi restituire un portafogli perso, in particolare dal vicino di casa. Non mancano alcuni motivi di insoddisfazione circa la vivibilità delle località in cui si abita. Tutti per lo più legati alla mobilità. Solo al sesto posto la criminalità. Tutti per la terra. Tutti per la terra. Ora. Attraffetto.